Iareggio ci ha aperto le porte ma di più proprio ci ha steso dei tappeti dorati nel senso che tutto quello di cui abbiamo bisogno ci hanno detto diteci di cosa avete bisogno noi ve lo possiamo dare ragionando ovviamente un equilibrio però questo ci ha convinti a dire sì possiamo fare questa scelta dopo sette edizioni e numerosi ospiti di prestigio il festival della sintesi saluta lucca per approdare sulle spiagge via regine dove secondo il presidente alessandro sesti ci sono condizioni migliori quali sono le cose di cui ha più bisogno questo festival ma intanto il gradimento prima di tutto il gradimento di una città di un di un'amministrazione di una amministrazione che ti consente di avere la certezza anche di contare su dei requisiti su delle strutture su una collaborazione e anche diciamolo pure su un contributo adeguato a quelle che sono ormai diventate le esigenze nuove del festival e invece qua a lucca i presupposti non c'erano al momento diciamo che ci sarebbero potuti essere se se tutto questo fosse se fosse accaduto cioè nel senso che quello che noi stiamo per avere da viareggio beh qua forse si avveniva prima forse non ci portava a fare questa scelta il prossimo festival della sintesi sarà quindi un'edizione estiva periodo in cui lucca è congestionata da eventi musicali il summer festival chiaramente non lascia spazio ad altro quindi sarebbe stato veramente illogico tentare di inserirsi durante la programmazione del summer festival quindi ecco che quindi l'estate praticamente per noi è sarebbe stata automaticamente esclusa a presto a presto a presto a presto a presto a presto